Nacelli Cosa sta facendo? Sto mettendo acqua e cibo per le formiche Bevono molto? No, in realtà succhiano liquido che contiene miele, acqua zuccherata, cose del genere insomma Quando i formicai ha adesso? Ma ora è inverno e quindi ho solo tre formicai Una regina, un piccolo formicaio di un anno e un formicaio piccolo sempre di due anni Sia pur in un lontano futuro, si potrebbe avere uno scontro tra la nostra civiltà e quella delle formiche? Se si modificassero le condizioni climatiche della terra e si avessero degli sviluppi impensati nel mondo delle formiche Come è successo Noi in un lontano futuro, come dice lei, potremmo prevedere uno scontro inquietante tra l'uomo e la formica Con risultati dubbi